Telecamere di videosorveglianza, centrali di controllo, sistemi di sicurezza, targa system, un incubo a Bassano da sempre spina nel fianco delle amministrazioni comunali cittadine. Più volte sindaci e assessori di turno sono stati chiamati a correre ripari a causa di impianti non funzionanti, immagini torbide, registrazioni non utilizzabili da parte delle forze dell'ordine. Poi a gennaio l'allora assessore Angelo Vernillo Calalasso e in grande spolvero presenta il bunker del controllo bassanese, la centrale operativa della polizia locale di via Vittorelli dove confluiscono le immagini in tempo reale della città. Una centrale per immagini, un grande fratello che punta l'occhio sui movimenti nelle strade cittadine. Tutto bene quel che finisce bene, direbbe qualcuno, invece no, non è ancora finita, manca il completamento del sistema di controllo ai varchi di accesso alla città. Durante i mesi estivi abbiamo visto all'opera gli operai impegnati ad installare le telecamere sui pali sparsi lungo le principali arterie cittadine. Ma sono solo targa system, niente video sorveglianza in questo caso e l'assessore ammette il sistema va sicuramente potenziato. L'obiettivo è quello di sostituirle un po' alla volta compatibilmente con le risorse che abbiamo a disposizione. Sostituirle ed implementarle perché abbiamo delle segnalazioni e vorremmo che anche i quartieri fossero più coperti e quindi stiamo cercando di dare delle risposte in questo senso. Non è ancora finita, insomma, la telenovela delle telecamere bassanesi. Nuove puntate ci attendono.